beh insomma non si tratta né di crotoli né di procioni bensì di farfalle e rifacciamo però quindi che cosa volevo fare che invece che fare l'ala della farfalle perché? aspetta ricominciamo cosa volevo fare? sì allora ci ho pensato muta 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 devo stare nei miei video muta perché non so parlare allora allora sì e cosa volevo fare? si spiegati ma perché sembro strabica? vabbè ok calma ho cercato di rendere il movimento in questo senso come una farfalla come una farfalla vabbè lo sappiamo tutti come fanno le farfalle no? sì vabbè è lo stesso eh che bello avere un cavalletto alto ciao becchetto che non lo so usare becchetto che non lo so usare che non lo so usare M